I materiali con cui si costruisce la musica elettronica sono estremamente semplici, si tratti di tre tipi di onda e del rumore bianco. Il primo di un mio set di live DJ è dal magico duo Pick and Done con il set di same job di Elevate, Rumore Bianco, con Daniele Petronelli. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 a tutti.